Musica Ore 12, buongiorno dal TG2000. In primo piano la manovra. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, il dettaglio delle misure. Quasi 2 miliardi per un fondo famiglia. In Siria prosegue l'offensiva di Erdogan, che ora ha di fronte oltre ai kurdi e anche l'esercito di Damasco. Migliaia sono gli sfollati. Lotta alla criminalità, meno reati in Italia, ma più truffe e distorsioni. Milano e Rimini, le città meno sicure. In coda alla classifica, le città virtuose di Oristano, Bordenone e Benevento. In apertura dunque la giornata politica. Stasera il Consiglio dei Ministri, chiamato ad approvare la legge di bilancio 2020, ma si torna a salire la tensione nella maggioranza quota 100, il super ticket e l'assegno unico per i figli. Le misure più dibattute. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in manovra di un fondo per la famiglia sono le novità che spuntano sul tavolo del vertice della scorsa notte a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio ipotesi che nelle intenzioni dell'esecutivo mirano a rendere il testo più ambizioso, oltre che a ridurre le tensioni tra i partiti. Continuano infatti i contrasti a poche ore dall'approdo in Consiglio dei Ministri della manovra, compreso il decreto fiscale previsto per questa sera o al massimo domani mattina. Entro la serata di domani infatti il testo del provvedimento deve essere inviato a Bruxelles per essere esaminato dalla Commissione. Restano tuttavia evidenti gli attriti incrociati tra le forze di maggioranza, 6 Italia Viva e 5 Stelle si scontrano su quota 100 con la richiesta del partito di Renzi di cancellare la norma frutto del governo precedente. 5 Stelle e Partito Democratico a loro volta duellano sul taglio del cuneo fiscale che dovrebbe salire a 3 miliardi da destinare alle buste paga dei lavoratori fino a 35 mila euro mentre i 5,3 miliardi del 2021 potrebbero essere divisi tra lavoratori e imprese, poi 600 milioni per l'abolizione da subito del super ticket sanitario da 10 euro. Ancora in via di definizione invece il capitolo famiglia che dovrebbe vedere l'ingresso in manovra di un fondo da un miliardo e nove che aprirebbe la strada all'assegno unico. La discussione riguarda i tempi e nel 2021 la spesa potrebbe essere soltanto di 500 milioni. Ma il premier Conte D'Avillino rassicura la maggioranza è compatta ieri c'era un ottimo clima di lavoro ci stiamo confrontando non c'è alcun conflitto. Andiamo in Siria Raid di Erdogan su un convoglio di reporter stranieri firmato intanto un accordo tra kurdi e il presidente Assad per truppe di Damasco a Kobane in funzione antiturca. Il Papa ha lanciato un appello al dialogo tra le parti in causa in un conflitto che coinvolge anche i cristiani. Marco Bergamaschi. Ad Asa che secondo l'agenzia di stampa di Stato si è festeggiata la decisione di inviare l'esercito siriano a nord che sarebbe già entrato a Taltam cittadina a una ventina di chilometri dal confine per contrastare afferma sempre la stessa agenzia di stampa l'aggressione della Turchia. Un dispiegamento frutto di un accordo con le milizie kurde sotto attacco da parte di Istanbul. Per il ministero della difesa turca 550 gli uomini neutralizzati ovvero uccisi o catturati tra quelli che vengono definiti terroristi kurdi e tra i 24 civili uccisi secondo l'ONG anche l'attivista siriana Evrin Kalaf che sarebbe stata assassinata da milizie filo-turche mentre il presidente turco Erdogan annuncia l'attacco alla città di Kobane sul fronte internazionale si attende la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che dovrebbe affrontare l'embargo delle armi verso Istanbul già annunciato da alcuni stati e dopo la notizia della fuga dalle carceri kurde di terroristi dell'ISIS per via del conflitto interviene Donald Trump non saranno mai portati negli Stati Uniti dice il presidente americano se li prenda l'Europa. La Polonia ha scelto confermato al governo il partito euroscettico di destra del leader Jaroslav Kaczynski che esce addirittura rafforzato rispetto all'elezione del 2015 quattro seggi in più alla Camera e il 44% dei consensi alla opposizione il blocco centro-liberale di coalizione civica che segue a distanza con il 28% dei voti ed include la piattaforma fondata da Donald Tusk attuale presidente del Consiglio Europeo. E ora in Spagna intanto l'Alta Corte ha condannato per sedizione ed appropriazione in debita ai 12 leader indipendentisti catalani ma non per il reato più grave la ribellione per il quale l'accusa aveva chiesto 25 anni resa pubblica la sentenza del processo per i fatti che portarono alla dichiarazione unilaterale di indipendenza della regione nell'ottobre 2017 combinate piene dai 9 ai 13 anni di carcere per un totale di 100 anni Ed ora in Ecuador dopo 12 giorni di scontri e 7 vittime ha raggiunto l'accordo tra il presidente e i leader della protesta Moreno ha ritirato il decreto per l'eliminazione dei sussidi al carburante Maurizio Dischino Io non tengo nessun problema voglio recalcare nessun problema in eliminare del decreto tutto quello che affetta non ho alcun problema a eliminare il decreto quello che colpisce i più poveri esplosa la festa in Ecuador non appena il presidente Lenin Moreno nella capitale Chito ha annunciato che verrà ritirato il decreto 883 il piano di austerità annunciato il 2 ottobre scorso che prevedeva il taglio dei sussidi statali al carburante l'annuncio è arrivato nella notte dopo 11 giorni di proteste e di scontri e dopo un lungo incontro cominciato alle 18 di ieri tra il governo e la confederazione delle nazionalità indigene dell'Equador guidata dal leader Jaime Vargas il dialogo tra le parti e l'avvio di una nuova coesione sociale è stato favorito dalla mediazione dell'ONU e della conferenza episcopale dell'Equador il governo il governo dunque ha accolto la principale richiesta dei manifestanti condannando le infiltrazioni criminali nella protesta che dal 3 ottobre scorso ha paralizzato l'Equador e devastato il centro storico di Chito 7 i morti accertati 554 i feriti e 929 gli arrestati è stata annunciata anche la creazione di una commissione mista con rappresentanti del governo e dei gruppi sociali affinché concordino un nuovo decreto in materia di politica economica che non favorisca il rialzo dei prezzi del carburante il piano di austerità era stato presentato dal governo come garanzia per un prestito di 4,2 miliardi di dollari assicurato dal Fondo Monetario Internazionale rientriamo in Italia a 160 persone in 6 diversi sbarchi autonomi sono approdate nelle ultime ore tra Lampedusa e Porto Empedocle Alessandra Camarca Con il ritorno del bel tempo sono ripresi gli sbarchi nel nostro paese sono tre i barconi arrivati all'alba a Lampedusa a largo delle coste siciliane uno di questi un barchino di legno con a bordo 75 stranieri è ormeggiato al molo commerciale dell'isola tra loro una maggioranza di donne e bambini di cui uno di appena una settimana nato durante il viaggio una volta scesi dall'imbarcazione di fortuna hanno ricevuto le prime cure per poi essere trasferiti nel centro di accoglienza di Contrada in Briacola nuovi sbarchi anche sulla costa ionica in provincia di Catanzaro dove sono arrivati 108 migranti di nazionalità irachena e iraniana a bordo di due piccole imbarcazioni intanto Ocean Viking la nave di soccorso noleggiata da SOS mediterranei gestita da medici senza frontiere che ieri in due distinte operazioni ha messo in salvo 176 persone a bordo delle imbarcazioni in difficoltà rende noto di aver chiesto secondo il diritto marittimo un porto sicuro per sbarcare le persone salvate non Tripoli come indicato dalla Libia che secondo l'ONG non può essere considerato porto sicuro e arrivano le reazioni alla decisione di Bolzano l'assemblea della provincia autonoma ha dato il via libera alla legge che abolisce il termine alto adige d'ora in poi esisterà la provincia di Bolzano resta però la dicitura sud Tirol faremo ricorso e la risposta giunta dal governo migliaia di fedeli ieri in piazza San Pietro per la canonizzazione dei cinque nuovi santi che Papa Francesco ha offerta ai fedeli assieme a quattro religiose il cardinale britannico John Henry Newman Cristiana caricato i volti dei cinque nuovi santi sorvegliano la piazza assolata le loro vite raccontate sul sagrato della basilica illuminano dal passato la chiesa di oggi in cammino sinodale sfiorata da ombre e tensioni John Henry Newman il teologo del primato della coscienza le quattro donne che lo affiancano sulla facciata della basilica indicano la strada dell'intelligenza dell'anima e della carità Papa Francesco nell'omelia ispirata dal Vangelo di Luca sui lebrosi guariti invita a non lasciarsi paralizzare dalle esclusioni ma gridare al cielo per essere risanati da paure vizi chiusure dipendenze gioco soldi televisione cellulare dire il nome di Gesù pregare per camminare con passi umili e concreti e prendersi cura dei fratelli lontani infine ringraziare ringraziare non è questione di cortesia di galateo è questione di fede un cuore che ringrazia rimane giovane il papa ricorda la preghiera semplice di margherite baes la laica svizzera che ha fatto della sua vita una donazione silenziosa e del pensatore inglese padre della teologia moderna preferisce citare l'elogio del quotidiano la possibilità di essere da cristiani luci gentili tra le oscurità del mondo tra i fedeli il presidente della repubblica italiana e il principe di galles per rendere omaggio alla santità cristiana voltiamo pagina in italia la situazione non è migliorata e questo è grave lo ha detto il presidente della fifa gianni infantino in libano nel corso di un campo sport della federazione calcio il razzismo si combatte con l'educazione ha detto condannando ha proseguito condannando non si può avere razzismo nelle società e nel calcio secondo infantino bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi ci vuole a concluso la certezza della pena come accade in inghilterra ci sono anche buone notizie dal mondo dello sport Simone Biles la ginnasta più forte al mondo ha stabilito il nuovo record assoluto di podi ai mondiali uomini compresi Federico Plotti 5 medaglie d'oro in un singolo campionato del mondo 25 podi nelle rassegne iridate mai nessuno come lei tra uomini e donne senza dimenticare 4 ori olimpici semplicemente Simone Biles la ginnasta più forte di sempre ieri ai campionati del mondo in corso a Stoccarda ha conquistato due medaglie d'oro prima nella trave e poi nel corpo libero incantando come sempre pubblico e giudici movimenti inimmaginabili per chiunque riesce a fare quello che altri atlete nemmeno osano immaginare come il doppio salto mortale con triplo avvitamento effettuato anche ieri alla prova del corpo libero movimento che porta il suo nome difficoltà J cioè il massimo del massimo più forte di tutte e di tutto anche di una vita che non è stata sempre facile è cresciuta con i nonni per i problemi di alcol e di droga dei suoi genitori è stata una delle 150 atlete abusate dall'ex medico della nazionale Larry Nassar condannato a 175 anni di galera hanno provato anche a demolirla con accuse di doping poi rivelatesi false Tokyo 2020 sarà la sua ultima olimpiade come ha dichiarato qualche mese fa e la ginnastica dopo di lei non sarà più la stessa torniamo in Italia per un quadro del nostro paese diminuisce il numero dei reati denunciati ma si registra un aumento esponenziale per le truffe e le frodi informatiche e per i reati di droga Silvio Vitelli calano i reati denunciati in Italia a meno 2,4% rispetto allo scorso anno un trend in crescita già da lungo tempo è un paese più sicuro o la gente è così rassegnata ad aver smesso di sporgere denuncia entrambe le ipotesi sono plausibili certo che per reati come rapine incendi o addirittura omicidi volontari è difficile pensare che non si riporti il fatto alle autorità eppure anche questi scendono rispettivamente del 7,54% e 10% dati dell'ampia indagine condotta dal sole 24 ore che evidenzia invece un incremento deciso di frodi informatiche ed estorsioni più 15% e più 17% più tenue il rialzo delle denunce per spaccio di stupefacenti più 2% anche violenze sessuali e associazioni di tipo mafioso aumentano su base annua ma sono rispettivamente invariate e minori di quelle che si registravano dieci anni fa noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito l'informazione torna alle 18.30 vi lascio a terza pagina oggi una lunga intervista ad Angelo Branduardi che presenta il suo ultimo disco ispirato all'opera di Santa Hildegarda buon proseguimento di giornata con TV2000